Allora, anzitutto bentrovati, è un piacere essere qui, ringrazio Valentina Zucchi, collega di Muse con cui stiamo lavorando insieme a questa mostra. Il progetto Riva è un progetto che parte da lungo termine perché è un progetto che si svolge con il Ministero della Cultura e con il programma Sensi Contemporanei e vuole in qualche modo interessare non solo il fiume come un luogo da rincontrare, con cui avere un incontro piacevole, profondo e condiviso per i cittadini, ma anche il fiume al di fuori di Firenze, quindi in area urbana ma anche in area metropolitana. Qui vedete tutti gli artisti che hanno fatto parte del progetto, questi sono solo gli artisti più importanti che abbiamo scelto per la mostra, sono oltre 40 tra artisti e collettivi e questo sono così tanti perché abbiamo lavorato insieme per cinque anni con lo scopo proprio di invitare, come vedete, artisti giovani del territorio, grandi artisti del territorio e anche artisti internazionali che sono venuti dall'America, dalla Norvegia, dalla California, da Israele, da Berlino, dalla Francia per condividere un percorso con noi e doveva essere un percorso non astratto di chi arrivava da fuori e faceva un'esperienza personale, ma una condivisione con la comunità, quindi grandi artisti internazionali che sono venuti hanno tutti lavorato con artisti del territorio, la maggior parte ha lavorato con artisti, con giovani artisti di 30-40 anni che volevano imparare e stare con loro, facendo workshop, facendo lavori di produzione, altri hanno proprio lavorato addirittura con altri artisti del territorio, già maturi, penso a Yuvala Vital che ha lavorato con una bravissima cantante che si chiama Benedetta Manfriani e con il suo coro. Quindi è stato proprio un progetto che ci ha tenuto tanto a lavorare sull'incontro intergenerazionale, che è stato un incontro molto felice e anche sull'incontro di artisti internazionali con artisti del territorio. La prima cosa che abbiamo richiesto è stata un'indagine, quindi questo percorso agisce tra musica, suono, racconti, fotografia, arti visive, installazioni, quindi è proprio una mostra che abbraccia tutte le arti contemporanee. Ai grandi fotografi, questi sono fotografi maturi, sono Davide Virdis che con Martino Marangoni è andato a studiare proprio San Francesco a Pelago e come vedete ha fatto queste splendide fotografie che raccontano di una periferia, di un ambiente molto bello in una periferia che ha anche zone industriali e zone, come dire, antropizzate, quindi un paesaggio abitato dall'uomo e segnato dalla presenza dell'uomo, ma anche particolari paradisiaci, come vedete, di una natura incantata. Se notate l'artista ci insegna sempre a guardare come in questo punto l'arno e la sieve, appunto a sieve, si uniscano e vedete le acque più agitate della sieve che confluiscono in quelle più ferme dell'arno, che quindi risultano azzurre. Lui era rimasto molto colpito da questi due colori, il marrone e l'azzurro che vanno a confluire insieme. Queste foto gli artisti le hanno volute stampare in grande formato e una stampa molto elegante e molto classica che trovate nella prima stanza. E questo è Martino Marangoni, che è uno dei fotografi più interessanti che abbiamo. Martino ha fondato una scuola e una fondazione dove forma tanti giovani. Lui ha lavorato a New York da giovane, ha studiato a New York e ha una relazione molto forte con tutti i più grandi fotografi internazionali. Quindi averlo a Firenze è un grande piacere, è un amico di molti artisti contemporanei e un amico anche di MAD, di Murata Air District. Lui, vedete, ha fatto una scelta assolutamente anticonvenzionale. Abbiamo chiesto come committente, come comune di Firenze e Muse, di fotografare il fiume e lui invece ha fotografato ciò che il fiume guarda. Quindi ciò che, come una soggettiva dal fiume, come se noi fossimo l'acqua, e ci guardassimo intorno. Cosa c'è sulle sponde? E sulle sponde c'è appunto presenza umana abbandonata, quindi caltapecchie, di una vita che non c'è più, oppure natura molto selvatica con anche un viadotto. Il viadotto accenna al fatto che ci sia un fiume sotto, perché spesso i viadotti corrono sulle valli e sul fondo valle spesso. I fondo valli sono solcati dai fiumi. Quindi una relazione strana col paesaggio che non va a raccontare didascalicamente il fiume, ma che va a intravedere la presenza del fiume in un paesaggio assolutamente non arcadico. Accanto troverete anche, come se fosse una cappella medievale, una piccola stanzina con un fotoromanzo. Anche questo fatto da fotografi molto bravi. Il gruppo si chiama Fotoromanzo Italiano, vivono e lavorano a Milano, sono venuti a Firenze, hanno coinvolto artisti. Lei è una performer, lei è un'artista visiva, George Tej, che fa parte qui del fotoromanzo, è un grande fotografo. Sono venuti qui sul territorio, hanno coinvolto gli amici artisti per fare un fotoromanzo. Il fotoromanzo è la cosa più pop che esista, quindi per raccontare il diluvio, li chiamano quei giorni del diluvio, l'hanno voluto intitolare, per raccontare il dramma dell'alluvione. Quindi nel 2016, quando abbiamo iniziato a lavorare, sono voluti venire a Firenze e hanno voluto fare un racconto molto ironico, con foto devo dire molto belle, quasi sciupate, consideratemi, consentitemi di dirlo, dalle scritte pop che ci sono sempre nel fotoromanzo. Quindi è stata una scelta ironica e popolare di trattare la tragedia dell'alluvione con un'erania feroce, in cui gli stessi fotografi contaminano e sporcano le loro belle fotografie e all'interno di questo volume le trovate esposte in grande anche dentro il MAD, ci sono foto veramente bellissime, addirittura più eleganti di quelle che avete visto finora e vengono, come dire, banalizzate su carta, stampate su carta proprio nella maniera più pop possibile. Qui vedete invece nel corso della mostra un signore che osserva un'altra signora, ma c'è anche una foto in cui questo signore osserva se stesso. Si chiama Diario Popolare, potete partecipare anche voi se lo desiderate, anzi ci farebbe molto piacere. Come vedrete se vi affascerete in mostra, la mostra, lo ripetiamo, è gratuita e ha anche visite guidate gratuite, quindi vi invitiamo a venire e anche a venire con amici perché è proprio un modo che il Comune di Firenze ha di promuovere il contemporaneo, a volte sembra più difficile e che in questo caso ha un accesso gratuito, quindi non vincolato da un biglietto. Abbiamo intervistato proprio per Diario Popolare, che è un progetto legato anche al Comune di Firenze, di un gruppo di cittadini che racconta il presente fiorentino, generando delle memorie video per il futuro. Quindi si sta facendo un archivio video su vari temi, dalla cucina alle piazze storiche di Firenze, un tema è l'Arno. Il capitolo sull'Arno è stato girato dentro il MAD, proprio perché noi eravamo affezionati al tema dell'Arno. E quindi qui vedete una di queste signore volontarie cittadine, Susan George, e Mauro Magher invece, questo signore in piedi, è uno degli altri relatori. È molto bello questo racconto sull'Arno perché è un vero racconto popolare. Gli anziani raccontano di quando erano piccoli, che andavano in fondo a cinque metri, tiravano sull'arena e potevano dimostrare agli amici di essere andati fino in fondo, quindi molto in basso, se avevano ancora l'arena in mano quando tornavano. E addirittura raccontano questi ragazzi di quando avevano sete a metà pomeriggio e scavavano con le mani finché una polla d'acqua molto fresca veniva sulla riva e loro bevevano. I bambini bevevano in questo modo, cose per noi inimmaginabili. Forse qualcuno di voi l'ha vissuto queste cose. Per noi, per la mia generazione, l'Arno rappresenta una fonte, diciamo, di diffidenza, di sporco, di timore e quindi ci fa piacere sentire questi racconti veri di vita vissuta che forse potrà tornare perché, come sapete, l'Arno ha in corso un percorso molto importante di valorizzazione, pulizia e si spera di poter tornare presto a farci il bambino. Qui vedete invece una fotografa molto importante che noi abbiamo coinvolto due anni fa come giovane fotografa, aveva poco più di vent'anni, si chiama Alisa Martinova, è di madre russa. Lei è venuta a fare un workshop che abbiamo realizzato insieme allo studio Marangoni e solamente dieci giorni fa ha vinto il secondo premio del Wordpress Photo, che è il premio più importante a livello internazionale sulla fotografia. Quindi siamo molto felici che una nostra fotografa abbia avuto questo riconoscimento importante. Se verrete al MAD troverete il suo lavoro, che sono otto pannelli come questo, tutti diversi. Lei è andata a suonare i campanelli delle persone che avevano la finestra sull'arno, perché ha usato e ha rappresentato le finestre come un obiettivo fotografico. Quindi la macchina fotografica ha il diaframma, il diaframma è una linea di confine tra l'immagine e l'occhio del fotografo, così come la finestra è un diaframma tra il paesaggio esterno e l'interno. L'interno della nostra casa, che abbiamo disegnato noi, abbiamo deciso noi di che colore è, con cosa è, se è familiare, se è scherzoso, se ha le pareti tutte rosa o tutte celeste, come capita in queste fotografie, lo vedrete se verrete. Mentre invece la finestra si affaccia su un dato, che è il dato del paesaggio, che non scegliamo, ma che entra a far parte della nostra intimità proprio come se fosse un poster, tutti i giorni appeso nella nostra casa, nella nostra intimità, nelle nostre stanze. E solo quella porzione lì ci appartiene intimamente. E allora lei ha voluto rappresentare esattamente questo, quale pezzo di Arno appartiene a chi. Ed è molto divertente vedere le varie stanze e i vari appartamenti, come vedete la zona Pranzo che attraversa sul fiume. Il fiume si intravede appena, ma fa parte della quotidianità di queste famiglie. Una giovane fotografa invece, che si chiama Giulia Dari, ha deciso di andare, e qui lo intravedete perché l'abbiamo presentato in una teca, in un archivio appunto a seve, e prendere tutte le foto dell'alluvione. Poi ha deciso di tornare esattamente nello stesso posto, dallo stesso punto di vista, e di rifotografare l'ambiente. Quindi ha unito le foto, ha ibridato, diciamo, mescolato le foto in bianco e nero con le foto a colori, lasciando un racconto che assomma due dimensioni temporali diverse, no? Le giustappone. Il presente a colori, quindi oggi c'è un'autoscuola che per l'appunto si chiama Benvenuti così come si chiamava Benvenuti al tempo, lo riconoscete dall'elemento in bianco e nero, e tutto il fango che riempiva le strade ai tempi dell'alluvione. Questa è un'altra giovane artista, si chiama Federica Gonnelli, e lei ha realizzato delle stampe in grande dimensione, su organza, con queste barchette che lei ha fotografato dentro l'acqua. Quindi il gesto dell'oregami, che è un gesto molto poetico, che attraversa i secoli, no? Perché le barchette di carta sono un gesto che appartiene a tutti noi. Per lei ha significato dare un'altra possibilità al fiume, continuare a vivere il fiume con fiducia. Un'altra artista invece, Alice Machado, che pensate, allora aveva solo 19 anni, ha fatto un lavoro incredibile, io se riuscissi vi ingrandirei. Questo si chiama il Signor Adelmo. Se andiamo ad ingrandire fortemente, e questo è il massimo consentito, il Signor Adelmo, voi vedrete che è fatto di tante piccole tesserine. Ecco, queste tesserine sono l'immaginario del Signor Adelmo. Quindi Alice Machado è andata a fotografare tutte le strade che il Signor Adelmo vive lungo il fiume, perché lui è un signore che abita a Pontassia, che forse qualcuno di voi lo conosce, o qualcuno in mostra lo ha riconosciuto, e anche a rifotografare l'album di famiglia. E quindi ha voluto ricreare un ritratto fatto a mano di infinite tesserine, sono oltre mille, che vanno a ricomporre il suo immaginario. E quindi un ritratto molto poetico. Al primo piano invece trovate il lavoro di un artista albanese molto famoso, si chiama Adrian Pazzi. Lui ha fatto un video, una performance, e questa installazione nel 2017-2018. E abbiamo lavorato insieme, ha voluto far solcare l'arno da una barca di un barcaiolo, con queste fibre ottiche che illuminavano il fondo, quel fondo un po' scuro, un po' sporco, che nasconde tanta storia e tanta memoria, che solo il fiume sa e che noi in qualche modo questa dimensione archeologica del fiume non la rifescheremo mai. Quindi era una visione molto poetica, molto bella. Questa barca, che è stata prodotta dal comune di Firenze e da Muse, è andata a Tirana per la prima mostra internazionale fatta dall'artista, l'antologica, nel suo paese, nel Museo Nazionale di Tirana, ed era la prima opera che lui ha voluto nel foyer. Dopo questa mostra è tornata a Firenze per testimoniare anche il nostro lavoro. e qui la vedete installata nella Sala delle Colonne con questo strascico, sembra un lungo vestito, e una videoinstallazione fatta nell'arno che accompagna l'opera. È molto emozionante e molto coinvolgente. Invece questa è un'artista americana, californiana, Kirsten Stromberg, che è andata sul fiume e sul fiume ha preso tracce delle piante. Quindi ha preso la plantagola anceolata, delle piante acquatiche e anche le canne di fiume e ha fatto una sorta di disegno en plein air, quindi ha fatto degli schizzi su un foglio bianco. Dopodiché ha deciso di tornare a casa e trasporli su uno spartito. Quindi ha invitato tre musicisti professionisti che torneranno alle murate il 19 di maggio e faranno tre performance nel pomeriggio, alle tre, alle quattro e mezzo e alle sei e mezzo. Scusami, quando? Il 19 maggio nel pomeriggio ci sono tre orari diversi che potete trovare sul sito. Mi sembra le tre e mezzo, le cinque e le sei e mezzo. Quindi in tre orari diversi si ripeterà la performance dal vivo di questi tre artisti che suoneranno le partiture di Kirsten Stromberg che sono quadri ma sono anche musica e sono molto belle. Sul sito trovate il link per ascoltarle anche queste composizioni inedite. Qui vedete invece la visualizzazione di un lavoro molto bello che abbiamo fatto con Radio Papesse. Con Radio Papesse abbiamo fatto un radiodocumentario che racconta tutta la storia dell'Arno e allora vi proponiamo di fare una bella passeggiata a partire da Piazza Poggi dove si scende verso il terzo giardino poi troverete un altro cartello al cestello un altro alla passerella dell'isolotto attraversando l'isolotto andrete in fondo fino al ponte all'Indiano dove c'è Pia che è Palazzina Indiano Arte e poi tornerete indietro fino alla Biblioteca Nazionale. Questa camminata che richiede circa due ore sarà accompagnata da documentari di 20-25 minuti l'uno che voi troverete col vostro cellulare potrete fotografare il QR code che sta sui cartelli e ascoltare mentre camminate tutti questi racconti colpi dell'Arno cosa è successo sull'Arno gli spettacoli pirotecnici sul fiume che hanno fatto gli artisti le storie segrete i restauri dopo l'alluvione e così via. Quindi tantissime storie assai appassionanti che abbiamo costruito in collaborazione con Radio 3 Rai. Qui vedete invece il terzo giardino qualcuno di voi c'è stato nel terzo giardino? È questa area esattamente sotto dove c'era la spiaggetta qua c'è la spiaggetta e si scende da Piazza Poggi ci sono i cartelli con i racconti di Radio 4S ma c'è anche il cartello del terzo giardino che è questo giardino lungo lungo qua. Semplicemente sono stati fatti dagli studio di architettura e studio plus plus dei tagli per cui è possibile proprio affacciarsi e passare in mezzo alla vegetazione spontanea che diventa un grande parco di 10.000 metri quadri. È molto bello perché se fate questa lunga passeggiata potete arrivare al Ponte Alle Grazie e da sotto il Ponte Alle Grazie con i piedi quasi nell'acqua vedere il Ponte Vecchio che si staglia davanti a voi a livello di acqua ed è veramente una passeggiata appassionante. Ecco tenete conto che se desiderate a fare una passeggiata in compagnia di qualcuno che vi spieghi e vi racconti ogni sabato ad eccezione del 5 di giugno alle 6 e mezzo troverete sotto il cartello con scritto Terzo Giardino in Piazza Poggi delle studentesse che vi accompagneranno dell'Università di Firenze con cui abbiamo fatto un progetto speciale che vi accompagneranno nel Terzo Giardino. Naturalmente dovete prenotarvi entro il giorno prima alle 17. Va bene? Anche questo è gratuito ed è una bella passeggiata. Qui invece troverete un'installazione sonora sono centinaia di canne nel preciso 128 intagliate a mano come flauti di pan vedete si vede il flauto che suonano perché dentro hanno dei ventilatori guidati da una centralina che crea delle musiche ogni volta diverse e se passate attraverso vi sembrerà di stare dentro un organo a canne di una chiesa che però suona musiche molto strane perché appunto è come un vento spontaneo che suona e quindi è molto particolare quest'artista qui invece è un artista berlinese che ha lavorato anche con giovani artisti del territorio grazie a Tempo Reale e ha fatto una passeggiata sonora a Montelupo lei mette delle scarpette col tacco e dice mi raccomando scegliete bene le scarpe perché le scarpe rappresentano il paesaggio sonoro che ci accompagna quindi se abbiamo delle scarpe col tacco delle scarpe morbide felpate ogni scarpa avrà un suono diverso lei ama delle scarpette con un piccolo tacco e ha una passeggiata abbastanza forte quindi ha fatto questo soundscape cioè un paesaggio sonoro che lei ha registrato con un microfono ad alta definizione incontrando le voci dei Montelupini che parlano le signore che escono a fare la spesa ma anche la voce del fiume che scorre degli uccellini degli alberi e così ha fatto questa conoscenza dello spazio insieme anche però alla sua presenza con le sue scarpette questo invece è un artista cinese noi come Mad e Murata District facciamo degli scambi ogni anno con la Cina e degli artisti cinesi vengono in Italia e artisti italiani vanno in Cina questo è un artista che è rimasto molto colpito dall'alluvione e in effetti a molti di voi suonerà vicino questo limo questo fango con oggetti abbandonati un vecchio telefono una ruota di bicicletta che lui ha raccolto è stato un mese a Firenze e lui le ha raccolte in lunghe passeggiate sull'Arno quindi è interessante come abbia voluto restituire questo paesaggio post-apocalittico da post-alluvione come sapete le alluvioni in Cina sono frequenti quindi è un dramma che loro conoscono molto bene su cui lui per loro sono addirittura mortali infliggono delle ferite grossissime nella comunità e lui quindi ha voluto rigenerare un paesaggio dove poi si rianima con un regista che gira un documentario la televisione come una nuova vita che nasce ma se vedete ci sono le mamme che stendono i panni i pastori che portano le pecore a pascolare quindi c'è questa grande installazione in cui vi troverete dentro questa invece è un'opera di Paolo Masi che è venuto alle murate e ha fatto queste che sono 40.000 chiodi proprio sulla parete e poi ha fatto una serie di polaroid molto belle le polaroid come sapete colgono l'attimo l'attimo di un rapporto sono diverse dalle fotografie non si possono manomettere non c'è elemento digitale oggi risultano più che mai analogiche e a colori vedete tutti i particolari delle murate in bianco e nero quelli dell'Arno anche singoli particolari che lui ha incontrato lungo il fiume dalle grate ai piccoli oggetti che lo hanno appassionato sotto il loggiato invece troverete Bernard Ford questa è la sua mano che è venuto dal Lione per registrare la voce dell'Arno il suo rumore il rumore dell'acqua che scorre dell'acqua che sgocciola degli uccellini che cantano quindi appunto è questa ricerca importante che c'è sul paesaggio contemporaneo e quindi abbiamo voluto registrare e restituire anche la voce del fiume non solo le storie sul fiume ma anche la voce del fiume questo è il loggiato dove c'è anche l'installazione di Bernard Ford ma vedete anche delle fotografie molto strane alcune persone mi hanno chiesto ma queste persone che fanno un fotomontaggio no non è un fotomontaggio sono foto reali fatte da persone incontrate dagli artisti Edoardo De Lille e Paolo Woods lungo la sieve appunto a sieve appunto e sono stati invitati queste persone che passeggiavano a saltare su un trampolino questo ha consentito ai fotografi di riprenderli sull'acqua non in modo artificiale creando un fotomontaggio ma una foto spontanea in cui gli abitanti che passavano per caso sono osservati lungo e accanto all'acqua e infatti li vedete vedete saltano e osservano il paesaggio e diventano un elemento del paesaggio questi sono esposti in piazza le murate sia nella facciata che anche sui palazzi vicini vedete sono persone proprio sospese nel paesaggio un paesaggio che gli appartiene profondamente altri artisti invece hanno deciso come Giuseppe Toscano di appendere le loro foto sugli angoli delle strade vedete che purtroppo le murate purtroppo è anche il suo bello è un quartiere molto popolare e i giovani attaccano le cose e chiaramente questo può creare anche un degrado allora abbiamo chiesto ai nostri fotografi paesaggisti e alla sovrintendenza di autorizzarci a mettere delle grandi fotografie di paesaggio di qualità lungo lungo il complesso perché questo perché come vedete queste foto hanno un elemento architettonico molto forte hanno delle verticali proprio incisive e quindi abbiamo deciso di restituire queste verticali abbracciando gli edifici ed è una cosa molto stimolante vedere la fotografia sugli angoli vedete questo elemento è reso direttamente sull'edificio così come anche questa foto che prende una casa popolare sull'acqua ugualmente viene attaccata sull'edificio questo invece è il corridoio del semiottagono non so se molti di voi conoscono il semiottagono è bellissimo è il panopticon delle murate questo corridoio conduce poi a un'apertura molto grande del carcere quello moderno mentre il MAD murata district sta nel carcere antico quello che prima era un convento questo panopticon è il carcere ottocentesco qui avevamo un'installazione sonora di Juvala Vital che ha fatto una composizione elettronica sull'Arno e poi finalmente arrivati in fondo le grandi foto di fotografi questo è un fotografo finlandese che ora vive in America si chiama Arno Mikkinen e a lui è piaciuto molto fare questo lavoro che ha chiamato Arno on Arno l'Arno sull'Arno perché lui chiamandosi Arno e lavorando lui sempre facendo autoritratti sul paesaggio come vedete è un uomo anche di una certa età lui si mette nudo sul paesaggio e fa queste fotografie che sono autoscatti ha trovato una sorta di alter ego nel fiume ed era molto commosso di fotografarsi nel fiume vedete lui è anche un maestro di yoga è molto bravo è molto performante col corpo anche se ha una certa età come vedete domina perfettamente il corpo e questi scatti sono molto difficili perché lui stava nell'acqua e doveva anche sistemare la macchina fotografica e fa tutto da solo qui vedete lo spazio rovesciato guardate il corridoio dall'altro lato e questo è un fotografo lucchese invece ma molto famoso nel mondo si chiama Massimo Vitali forse lo conoscerete perché lui fa le fotografie alle grandi spiagge e si vede questi oggi li chiamiamo assembramenti un tempo ci sembravano comuni immagini di folle oggi li chiamiamo assembramenti che in effetti ci fanno un po' strano e questo è il Ponte Vecchio quasi irriconoscibile perché il Ponte Vecchio ha il suo arco e le sue superfetazioni tutte quelle casine che lo rendono così particolare lui invece ha deciso di fotografare proprio la massa di persone così come qui non lo vedete ma questa è una foto di 50 pescatori tutti in fila che stanno sull'arno quindi quello che interessa a Massimo Vitali è la popolazione la popolazione numerosa dove è tanta e come vive le cose come vive il paesaggio vedete quanti turisti oggi ci fa quasi impressione vedere questi assembramenti che non ci appartengono più come sensibilità e qui invece vedete un lavoro molto particolare ed è l'ultimo così dopo magari con Valentina possiamo rispondere a vostre domande e curiosità questo è un lavoro interessante di un artista di Chicago si chiama Jay Walkie Jay Walkie è professore all'Università di Chicago per la fotografia ed ha attraversato lungo l'arno fatto grandi passeggiate con un mini scan uno scanner per documenti quindi una cosa anomala non è un oggetto da fotografo che fa altissime rilevazioni scannerizzazioni delle superfici e quindi lo ha passato quindi a distanza di pochi di 20 centimetri sul pavimento e ha preso le mucillaggini sopra l'arno ha preso come vedete dove ci sono i lavori in corso quella rete arancione sembra una cosa a pua ma è una rete arancione dei lavori ha preso i disegni che sono fatti sulla pescaia i pulviscoli dei fiori e poi li ha restituiti quindi presi con questo mini scan era talmente ad alta definizione che ha giocato a invertire la micro dimensione con il macro rimontandoli in grandissimi striscioni di 3-4 metri e creando un collage visivo molto affascinante devo dire molto affascinante dove ha messo di tutto dalle cartoline che trovava per terra dipinte dai pittori della domenica sull'arno alle grandi icone pop dell'arno e dell'alluvione tutto ciò che ha trovato passeggiando lungo il fiume e questo è stato molto bello perché ecco questa opera di Jay Walk è stata affiancata anche da un importante workshop che Jay Walk ha fatto con gli studenti con i giovani fotografi fiorentini quindi hanno potuto avere un grandissimo maestro che è stato con loro una settimana intera giorno e sera a leggere il loro portfolio a guardare i loro lavori e per loro mi raccontavano che è stata un'esperienza molto commovente quindi ecco io vi invito a venire al MAD perché per noi è stata un'esperienza emozionante quella di avere questo progetto e quella di vedere di avere degli osservatori del nostro territorio giovani anziani dei grandi fotografi che vengono dal mondo internazionale musicisti invitare tanti occhi diversi a raccontare il nostro fiume con sensibilità diverse e con attenzione a strumenti diversi dalle arti visive appunto ai video il racconto e il suono e penso che sia una mostra molto particolare molto affascinante io vi invito a vederla e poi naturalmente a scriverci che cosa ne pensate ecco e ringrazio Valentina che è qui con noi e che magari può darci anche delle indicazioni grazie infinite Valentina grazie e anche perché appunto sei stata perfetta direi nella tempistica così come mai noi riusciamo ad essere quindi sei stata veramente perfetta ti ringrazio anche perché appunto con lo sguardo e appunto raccogliamo eventuali suggestioni del pubblico nel frattempo ci hai permesso di indagare sia il fiume e appunto non soltanto nelle rive più urbane ma anche appunto nelle tra virgolette appendici cittadino o comunque metropolitane di Pontassieve piuttosto che di Pelago piuttosto che di Montelupo ma anche di cogliere lo sguardo di questi grandi artisti giovani e meno giovani appunto dalla 19enne ai grandi artisti affermati di Chicago che appunto ci hanno restituito una dimensione diversa del fiume è una mostra che sicuramente è altamente poetica ci invita a comprendere l'arte come essa è e appunto mi permetto questa piccola fiosa oggi ovvero un insieme di suggestioni di riflessioni plurisensoriali plurilinguistiche quindi la rende davvero pienamente accessibile proprio perché non sollecita appunto soltanto il nostro sguardo ma anche appunto il nostro udito il nostro olfatto con le piante davvero tutta una serie di dimensioni sinestetiche che sono importanti e peraltro sollecita anche il nostro contributo e quindi appunto da Diario Popolare in poi che appunto ribadisco e l'invito a lasciare la propria memoria sul fiume il proprio capitolo a scrivere diciamo in forma orale il proprio capitolo sul fiume quindi davvero invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a lasciarci appunto anche la propria traccia e la propria testimonianza quindi è davvero una mostra che ci restituisce una dimensione diversa con il fiume e che come giustamente dicevi ci auguriamo di poter recuperare perché appunto poche generazioni fa la viviamo in maniera diversa le visite alla mostra sono fluibili tutti i sabati pomeriggio così come le visite al terzo giardino terzo giardino che come avete visto appunto sia il progetto di Radio Papese sia le visite al terzo giardino ci restituiscono una dimensione anche fisica di relazione con il fiume e quindi le suggeriamo anche proprio a chi ama anche complice diciamo il periodo le passeggiate in plenare e quindi all'aria aperta ci permettono appunto di vivere una dimensione diversa di rapporto con il paesaggio e il terzo giardino in particolare davvero un'esperienza unica nel senso che dall'alto del lungarno non sospetteremmo mai come dire di vivere un'opera d'arte e di architettura vegetale diciamo così così complessa e nello stesso tempo così spontanea perché ci permette davvero di avvicinarci alla flora alla fauna che abitano il giardino e peraltro grazie ai contributi di biologi di scienziati di botanici e di etologi siamo riusciti a comprendere come sia numerosa e anche delicata quindi davvero come abbiamo tutti il compito di cercare di non sovvertire quello che appunto è un ordine ecologico e ambientale non perché siamo ambientalisti ma perché siamo parte di questo sistema e quindi davvero invito tutti a fruirne sia in forma accompagnata ma anche in forma libera perché ci restituiscono una dimensione molto più prossima del fiume e naturale pur se appunto decisamente intelligente e quindi appunto naturalmente frutto della riflessione artistica guardo soltanto in chat se ci sono domande vedo una domanda sul terzo giardino viene curato regolarmente Valentina vuoi rispondere tu? Sì il terzo giardino per fortuna è entrato in una programmazione di gestione del consorzio di bonifica la regione toscana e il comune di Firenze e quindi viene curato pulito manutenuto è un nuovo parco della nostra città è stata una grande impresa Valentina Zucchi ha seguito con noi tutte le sofferenze perché questo avvenisse perché veramente all'inizio succedevano cose strane c'era ancora la provincia quando lo abbiamo iniziato a immaginare e un'estate un signore telefonò un cittadino dicendo qui c'è tutta una sterparia bianca chiara una secca alta io ho paura che venga un incendio e un un impiegato solerte che sostituiva una persona che si occupava del terzo giardino in ferie estive d'agosto mandò la ruspa che rase tutto al suolo quindi abbiamo avuto anche disavventure disperanti su questo terzo giardino perché l'arte pubblica è difficile in Italia ed era una cosa inizialmente difficile da capire ora dopo qualche anno sta iniziando ad essere parte del patrimonio cittadino e quindi non solo ci vanno le famiglie che abitano in zona ma ci abbiamo accompagnato artisti giornalisti internazionali che hanno voluto fare fotografie da lì e riprendere il terzo giardino da poco una importante giornalista francese quindi si inizia a percepire questo giardino come una porzione di città che è stato fatto per questo è stato fatto prima di tutto per i fiorentini e quindi l'obiettivo degli artisti era proprio restituire una porzione di 10.000 metri quadri assolutamente impenetrabile ai cittadini ed è un parco bellissimo veramente affascinante perfetto grazie mille e quindi appunto l'invito è questo e un'ulteriore riflessione se non ci sono altre domande oppunto comunque lascio aperto il campo se qualcuno volesse scriverci nel frattempo è questa diciamo ci faceva molto piacere e ci ha fatto molto piacere condividere questo viaggio intorno al fiume grazie allo sguardo degli artisti e questo anche perché abbiamo condiviso tanti capolavori del 400 del 500 o del medioevo o del 600 o del 700 però ecco avvicinarci all'arte del nostro tempo è sempre qualcosa di come dire meno facile che approcciarsi appunto alla cappella di Leonora di Agnolo Bronzino questo invece è il nostro modo diciamo il nostro linguaggio per riflettere sul mondo le arti ci aiutano proprio in questo quindi davvero come essere cittadini di oggi ci fa molto piacere che le murate ci abbiano condiviso insomma e Valentina Gensina abbia condiviso questa riflessione con noi ma soprattutto con voi proprio perché riteniamo sia ancora più prezioso che conoscere come dire tanti particolari della nostra grande arte del passato che sicuramente tutti quanti apprezziamo ammiriamo ma che appunto ci restituiscono un'epoca che fu e non è la nostra mentre l'arte di oggi ci invita a vivere diversamente il nostro presente dove telefonare per prenotarsi per il terzo giardino nello stesso posto in cui avete prenotato questa mezz'ora quindi il nostro call center potete scrivere a info chiocciola musefirenze punto it oppure telefonare a 055 27 68 224 ora magari lo metto anche tra i sottotitoli però ecco è la nostra consueta diciamo il nostro consueto content center per chi fosse curioso poi sul sito di MAD quindi murateartdistrict.it che è murateartdistrict appunto distretto delle murate trovate tutte le interviste che abbiamo fatto agli artisti quindi trovate anche la voce degli artisti due tre minuti per ciascuno c'è tutto l'elenco come avete visto ora nella slide cliccate sul nome dell'artista e potete ascoltarlo guardare le foto del suo lavoro e così via quindi chi fosse curioso di conoscere anche qualcosa in più può trovare tutti questi accompagnamenti approfondimenti sul sito questa è una cosa molto utile perché effettivamente vi permette diciamo oggi abbiamo volato come avete visto sono tantissime opere però sul sito potete effettivamente andare ad approfondire prima o dopo venire anche a visitarlo diciamo in loco vi permette un'ulteriore appunto implementazione di visita e di esperienza se non ci sono altre domande appunto altre riflessioni vi ringraziamo ancora per il vostro tempo e la vostra pazienza e per averci appunto permesso di condividere con voi anche appunto le spinte più contemporanee dell'arte ringraziamo Valentina Gensini per il suo tempo per il suo sapiente racconto grazie Valentina grazie a voi grazie ancora e naturalmente vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti che ricordo sono a cadenza bimensile quindi non martedì prossimo ma tra due martedì per continuare a scoprire appunto le meraviglie di Firenze dei musei civici del patrimonio fiorentino passate la voce sul Murater District nel senso che appunto è un luogo tutto da conoscere tutto da esplorare grazie ancora grazie Valentina per essere stata con noi buona serata a tutti buona serata grazie buona serata buona serata grazie buona serata buona serata buona serata splendidi come sempre grazie buonasera a vedersi grazie grazie